Concerti, circo, cinema, spettacoli e sport, ma anche Burraco, laboratorio musicale, performance di arte contemporanea. Sono solo alcuni degli ingredienti della manifestazione di palchi d'estate, la rassegna in programma Vittoria Scoglitti dal 29 luglio all'11 settembre. Una rassegna che, come è stato spiegato nel corso della conferenza stampa svoltasi ieri mattina, grazie alla collaborazione di tanti artisti locali, è stato organizzato con meno di un quarto delle spese in appena 20 giorni. Stiamo lavorando, stiamo cercando di rivitalizzare tutte le zone, anche la nuova stagione estiva, palchi d'estate, non prevede soltanto il palco a Piazza delle Arduine, quindi manifestazione soltanto a Piazza delle Arduine, ma anzi sarà itinerante, dalla riviera Lanterna, dalla riviera Camerina, al Molo di Levante, al Braccio del Porto, che è un palco naturale, suggestivo e bellissimo, il Mercatino delle Pulci in Piazza Cavour, altri concerti in Piazza Cavour, quindi stiamo cercando veramente di rivitalizzare l'intero centro e il nostro lungomare. Ripartiamo da qua, quest'anno con risorse assolutamente limitate, noi stiamo spendendo un quarto di quanto è stato speso l'anno scorso, l'anno scorso circa 200 mila euro, quest'anno poco più di 40 mila euro, compreso dai servizi tecnici, quindi abbiamo fatto uno sforzo enorme, abbiamo promesso di aiutare, di puntare tutto sulle eccellenze locali, così stiamo facendo, stiamo portando sui nostri artisti che sono meravigliosi e che voglio ringraziare anche per l'aiuto che ci stanno dando. Grazie. Grazie.